Fosco, letteralmente, significa grigio scuro e quindi cupo anche metaforicamente, qualcosa che è carico di presaggi negativi, di morta insomma. E non a caso il capolavoro di Gingono Ugo Ctarghetti, uno dei grandi protagonisti della scapigliatura italiana, si intitola proprio Fosca. Fosca è anche un nome femminile, effettivamente esistente, benché molto raro, che evidentemente qui diventa simbolico. Simbolico di un'attrazione fatale per la morte, che è poi il tema fondamentale di questo romanzo, molto particolare, forse non riuscito fino in fondo, ma sicuramente coinvolgente e piacevole da leggere. E' qui presentato come un esempio significativo della scapigliatura, sì perché in esso sono condensati molti dei temi tipici di questa generazione, di questo movimento culturale, di questa generazione di intellettuali, che si colloca, insomma, dal punto di vista spaziale a Milano e dal punto di vista cronologico, subito dopo l'Unità d'Italia. E in effetti Fosca fu pubblicata su Il Pungolo a puntate, come si usava all'epoca, era un romanzo d'appendice in senso stretto, insomma, Il Pungolo era un giornale. Prima puntata e poi nel 1869 rimaneggiato, tra l'altro postumo perché Igino Ugo Tarchetti morì giovanissimo per tubercolosi, rimaneggiato quindi dall'amico Salvatore Farina, che riscrisse, anzi scrisse sulla base di appunti, il penultimo capitolo, quello che racconta di una notte d'amore, ecco, anche se quasi orrorosa come andremo a vedere. E' notevole però che quando il testo fu consegnato in realtà era praticamente concluso, quindi Il Pungolo, è vero che lo pubblicò a puntate, ma in realtà ebbe il testo già quasi completo dalle mani di Tarchetti. E fu un romanzo di grande successo, difatti fu ripreso in tv, da film, al teatro e anche al cinema, Ettore Scola, un grande regista italiano, ne traste passione e d'amore, ma un film abbastanza fedele al libro. Per evitare di togliere il piacere della lettura a chi si volesse avventurare a leggere questo volumetto, solo nell'ultima diapositiva racconto la trama. Tuttavia, qui, senza spoilerare troppo, ecco, presento i personaggi principali. Teniamo conto che la trama in realtà è abbastanza esile. Quello che veramente interessa all'autore è raccontare i moti psicologici, e in particolare la lacerazione nell'animo di Giorgio, che in effetti è un po' un suo alter ego. Chi è Giorgio? Giorgio è un militare di professione, giovane, fin dall'inizio si caratterizza come infelice, che, questo possiamo dirlo senza problemi, si innamora di due donne, o meglio, si innamora di Clara, che adesso andremo a vedere, ma in seguito trova un'attrazione fatale per Fosca. E, tra l'altro, diciamo, un alter ego dell'autore sia perché condivide gli stessi moti, la stessa sensibilità, come adesso andremo a vedere, lo stesso rifiuto per i canoni borghesi, la morale borghesi, che lo disgusta, e anche per motivi biografici, perché Tarchetti fu anche lui un militare di carriera, espulso dall'esercito, forse l'ha abbandonato, insomma, una via di mezzo, in realtà formalmente espulso, ma lui era molto insofferente a questa vita, ebbe una relazione con una parente di un suo superiore, e questo ebbe un ruolo importante nella sua espulsione dall'esercito, proprio come Giorgio ha una relazione con la cugina del suo colonnello, cioè Fosca. Ma vediamo come viene caratterizzato Giorgio. Dice, qui è lui che parla di se stesso, perché teniamo conto che Fosca è scritto in prima persona, con un narratore interno, e Giorgio stesso che scrive una forma di memoriale, e quindi parla di se stesso. Dice, non ho mai potuto indovinare se la mia natura fosse piuttosto incompleta che esuberante, ma in qualunque modo, egli, egli vuol dire la natura, era ben certo, cioè, egli era ben certo, scusate, era sicuro vuol dire, quello egli non lo useremo più, era ben certo, che io mi innalzava sul livello delle nature comuni. La ripugnanza che ho sentito, che sento ancora per tutto ciò che è convenzionale, per tutto ciò che è metodico, non proveniva già dalla mia educazione, ma da una disposizione speciale del mio carattere. Non mi importava di essere da più o da meno degli altri uomini, mi bastava di essere diverso. Ecco, questo è il malessere profondo. Non si trova, Giorgio e neanche Tarchetti, non si trovano nel mondo, nella società che si sono costrette a vivere, cioè quella postunitaria permeata di valori borghesi. E lui dice, non so bene quale fosse la mia natura, anche questo è interessante, perché gli scapigliati mettono in campo una grande inquietudine, ma non sanno ben definirla, hanno una difficoltà a costruire una proposta coerente dal punto di vista letterario. Per questo che questo movimento pur interessante si conclude in pochi anni. Comunque, io non so bene cosa fossi, ma sicuro che io ero al di sopra degli altri, delle nature comuni, cioè avevo una sensibilità molto più spiccata. E soprattutto, dice dopo, avevo un rifiuto per tutto ciò che è convenzionale. Appunto, la morale borghese. Non volevo essere da più o da meno, ma interessava essere diverso. Ecco, questo è più il rifiuto delle convenzioni, la volontà di seguire la propria natura. Ecco, dice, non viene dall'educazione, ma da una natura, una mia indole, qualcosa che profondamente mi distingue da tutti gli altri. Poi si paragona a un leone e dice che è il tempo che lui vive intensamente. Ecco, questa è un'altra caratteristica degli scapigliati, che in effetti vissero tutti, quasi tutti poco e tutti intensamente, anche biograficamente. Poi ce ne sono due amanti. La prima è Clara. Clara, lo dice il nome, ricorda la luce. Ed è quindi l'amante solare, la donna nella pienezza delle sue possibilità. In qualche modo la donna Angelo, anche se qualcosa non torna nella sua caratterizzazione, perché effettivamente lei è sposata, ha anche un figlio, e quindi tradisce il marito per andare con Giorgio. E tuttavia viene caratterizzata come tutto ciò che di bello e piacevole ci può essere una donna. È caritatevole, è dolce, ed è ovviamente bellissima e bionda. Lui la conosce quasi subito nel romanzo per caso, e le presenta la sua infelicità e lei lo conforta. Clara aveva indole forte, giusta, severa. Vi era nulla di fatuo, nulla di fiacco, nulla di puerile nel suo carattere. Eppure nessuna donna fu mai più affettuosa, più dolce, più arrendevole, più accrazievole, più eminentemente donna. Nessuna fu mai più donna. Aveva 25 anni, era alta, pura, robusta, serena. Guardate quanti aggettivi positivi. Scopersi più tardi il segreto di quel fascino immediato che aveva esercitato sopra di me. Ella rassomigliava a mia madre. Mia madre poteva aver avuto la sua stessa bellezza e la stessa età quando io nacque. Ecco, questa identificazione con la madre la rende appunto eminentemente donna, ma al contempo se ci pensiamo a qualcosa di palesemente freudiano. Freud non c'era, non aveva ancora illuminato, diciamo, le tenebre della psiche con le sue teorie, ma evidentemente qui c'è qualcosa che andrebbe indagato, qualcosa di non risoluto. Quindi è la donna in qualche modo, pensiamo cos'è nella teoria psicoanalitica la madre, la figura di donne ideale dalla quale tuttavia bisogna affrancarsi. Ed è proprio questo anche Clara. E di fatti abbiamo un'altra donna, fosca, la fan fatale, che invece è orrendamente brutta e ovviamente scurissima di carnagione. Cosa vuol dire fan fatale? Fan fatale vuol dire donna fatale, cioè una donna che attrae l'uomo in modo inevitabile, perché fatale vuol dire sia portatrice di morte, ma anche donna del destino in qualche modo. Cioè una donna da cui non ci può staccare e che porta alla rovina. E questo è un personaggio letterario tipico dell'Ottocento e dell'inizio Novecento, specialmente del decadentismo. La maggior parte delle fan fatale però sono belle. Fosca, invece, è brutta. Cioè nonostante, attrae inevitabilmente il protagonista. Ed ecco qui come viene descritta. Dio, come esprimere con le parole la bruttezza orrenda di quella donna? Come vi sono beltà di cui è impossibile dare un'idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione. E tale era la sua. Nella osagerazione. L'altra strada di nessuna più evidentemente donna, questa? Totale antitesi. Orrendamente brutta. E non si può neanche dire quanto. Nei tanto era brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze, che anzi erano in parte regolari, quanto per una magrezza eccessiva, direi quasi inconcepibile in chi non la vide. Per la rovina che il dolore fisico e la malattia avevano prodotto una sua persona ancora così giovane. Ecco, lei è brutta, ma è anche malata. E la malattia è simbolica evidentemente. Tra l'altro non è una malattia diagnosticabile, una malattia nervosa. Lei ha avuto una vicenda, in realtà era anche brutta dall'ingiovinezza. E questo le causò tutta una serie di difficoltà. Fu anche vittima di un avventuriero che mirava il suo denaro. E insomma, si era... Andava spesso in crisi e questa sua malattia era tra il fisico e il mentale. La malattia, dal resto, lo dirà poco dopo, in un testo che ho tagliato, è la sua condizione normale. E in fondo, in questo rappresenta bene la morale degli scapigliati. La malattia è la condizione normale di questa generazione. Ma andiamo oltre. Dicevamo... Occhi di un'abilità sorprendente. Allora, cosa è lei? È uno scheletro. Cioè, è la morte. Clar rappresenta la vita, Fosca rappresenta la morte. È l'attrazione per la morte. Tipica di uno degli scapigliati, ma di tutti in realtà. L'avrebbe ancora poi detto Freud, che noi abbiamo un'attrazione per Eros, la vita, la morte, ma anche Talatros, la morte. E non è tutto. Quindi lei è come uno scheletro. E anche il nero. Il nero è colore del lutto, quindi ha un valore fortemente simbolico. Però è interessante che l'unica parte veramente via sono gli occhi. Gli occhi che divorano. Gli occhi sono, lo sappiamo, fin dai tempi di Petrarca, il tramite, anzi, prima, il tramite attraverso cui passa l'amore. Pensate anche a Cavalcanti, insomma, attraverso gli occhi, no? Viene colpito il poeta. Ebbene, però questi sono occhi vivissimi, che divorano l'anima della vittima, potremmo dire, cioè dell'innamorato, dell'uomo. E questo, e sottraggono vita, ecco. E questa è la sua caratteristica. Poi dice che in fondo le forme non erano così male, ma una certa affinatezza, in fondo qualcosa ha, ma tutta la sua orribilità era nel viso. Ecco, questi sono i tre personaggi principali. Ci sono altri due che meritano una menzione, che hanno un certo ruolo, anche se accessori, in realtà tutta la storia sta nella relazione tra Giorgio e queste due donne. Il colonnello, che è il superiore di Giorgio, che lo accoglie in un paesino senza nome, non troppo lontano da Milano, in cui Giorgio viene dislocato in quanto militare, lo accoglie alla sua tavola, e dove vengono raccolti tutti, oltre alla cugina fosca che vive con lei, anche altri ufficiali del presidio, di questo luogo tristissimo, veramente privo di attrattive, se non naturali, e poi tra questi c'è il maggiore medico, che ha in cura, potremmo dire, fosca, e che si accorge anche del fatto che Giorgio sta maturando la stessa malattia, che non è una malattia, ricordiamo, tipo virale o batterico, ma la stessa malattia dell'animo, potremmo dire, e lo mette in guardia, purtroppo vana, purtroppo per lui, vanamente. Vediamo ora alcuni dei temi fondamentali di quest'opera, temi che in realtà in parte sono già stati adombrati, ma che adesso vediamo in modo un po' più sistematico. Innanzitutto, fondamentale, il rifiuto delle convenzioni sociali e dei valori borghesi. Questi valori, questo rifiuto in realtà era abbastanza tipico del romanticismo europeo, ma il romanticismo italiano invece li aveva accettati, fondamentalmente li aveva fatti propri in una sorta di alleanza con la borghesia per ottenere l'unità d'Italia, l'istanza patriottica da tutti i condivisi. Ora che è stata ottenuta, questa alleanza non ha più motivo d'essere. E quindi molti valori sono rovesciati. Ad esempio, l'adulterio appare come qualcosa di puro, l'abbiamo visto parlando di Clara. Curiosamente è un recupero di temi amorosi fortemente radicati all'immaginario letterario, che si ha amor cortese, in cui l'amore vero non può che essere quello adulterino. Ecco qui cosa dice il nostro narratore, il nostro Giorgio. Io non farò caso ai leggi degli uomini. Qui sta scrivendo a Clara. Perché so che il cielo ha donato all'amore leggi più generose, più salde, più ragionevoli. Ecco, la premessa. Io non farò caso ai leggi degli uomini. Quelle leggi degli uomini non mi interessano, io sono anticonformista. So che il cielo ha donato all'amore le leggi più generose. Ecco, è ciò che noi consideriamo come la più gran colpa possibile della donna, mentale, la borghese, comunque, valori socialmente accettati. L'adulterio non è spesso che una rivendicazione dei diritti più sacri che ha dato la natura. Ecco, natura contro società. Ciò che è conforme alla natura, all'indone di ciascuno, ricordiamo anche la parentazione di Vato di Sé, Giorgio, dell'estratto che avevamo letto prima, ebbene, ciò che invece è inculcato dalla società, ecco, che la società le ha conculcato, ecco, è invece negativo. Nel tuo caso era ancora di più. Era un sacrificio grande, sublime. avere l'amante diventa un sacrificio. E poi va avanti e dice fossi tu mi mille volte colpevole e ti amerei ancora doppiamente, perché so che lo saresti per amor mio. Ogni qualvolta ripenso a te, mi corrono le labbra e limiti i parole di Cristo. Ti sarà molto perdonato, perché è molto amato. Ecco, questa affermazione sacrilega, potremmo dire, in cui si attribuisce, si giustifica con l'adulterio, con le parole di Cristo, è un altro aspetto interessante. Gli scapigliati spesso vogliono fare scandalo, in qualche modo, in modo quasi programmatico. E rovesciare i dettami della religione, del cristianesimo, è un modo immediato di ottenere questo risultato, di allontanarsi da quella che è la morale comune, anche in maniera un po' provocatoria e non sempre profonda, questo va detto. Poi, l'altro grande tema, comprense di amore e morte e eros etanatros, questi due elementi che opposti, ma che parimenti attraggono l'uomo e, conseguenza, l'attrazione evidente per tutto ciò che è morboso, abnorme, addirittura orrido. Orrida è evidentemente fosca, ma anche per tutto ciò che è malato, esagerato, fuori dal comune. e qui ho messo una citazione invece una lettera di una battuta scusate pronunciata da fosca, dice ho letto una volta di un fiore la sommità del cui calice è sparsa di un polline dolce e salutare e il fondo di un polline amaro e velenoso. Le farfalle che vi si fermano troppo vi muoiono e così hai tutte le cose, così è della vita. Ecco, ciò che ci attrae della vita ci porta anche alla morte in qualche modo amore, morte, veleno e polline dolce vitale sono due facce della stessa medaglia, due facce della vita che sono compresenti necessariamente. mi soffermo ancora un momento sulle caratteristiche formali che sono piuttosto significative e diciamo che rispondono al contenuto. Innanzitutto il narratore è interno in forma di memoriale e Giorgio a raccontare queste sue vicende però è interessante perché ho inizio in multiplo perché in più punti si ha un narratore di secondo grado ancora interno e chi sono questi narratori? fondamentalmente sono Fosca e in misura minore Clara che scrivono delle lettere e in particolare Fosca racconta tutta la sua vita precedente la racconta della finzione letteraria a Giorgio. Perché è importante questo? Non è qualcosa di estrinseco all'opera ma il punto è che l'interesse di Tarchetti non è tanto alla vicenda che come vedete è piuttosto scarro ma invece come viene filtrata dalla soggettività umana e quindi il fatto che il narratore sia interno è assolutamente necessario quello che conta è come gli uomini e le donne dotate di sensibilità eccezionale e sicuramente sia Giorgio sia Fosca rispondono a questa caratteristica vivono la realtà e infatti vi è una prevalenza della psicologia sulla trama bisogna però precisare che in realtà questa psicologia non è particolarmente raffinata e sono abbastanza netti potremmo dire una psicologia letteraria nel senso che è esemplata su modelli un po' astratti non vi è la vera complessità dell'individuo come sarebbe poi stata presente in romanzi successivi a partire dall'Annunzio e poi soprattutto con Svevo nella letteratura italiana lo stile di conseguenza è lirico lirico vuol dire propriamente una lirica vuol dire incentrato sull'io sulle sensazioni ma anche ricco di figure retoriche dotato diciamo espressivo ecco c'è la continua ricerca di ottenere degli effetti di grande efficacia espressiva e tra tutte le varie figure retoriche la cifra stilistica è l'iperbole tutto viene esagerato portato all'estremo conseguenza Fosca la donna più brutta mai vista Clara la femminilità fatta per sola insomma è tutto portato all'estremo conseguenza i debiti sono evidenti sono evidenti rispetto al romanzo naturalistico francese Solà che spesso faceva prestava una grande attenzione ai casi patologici al romanticismo europeo ma anche a Ugo Fosco tant'è vero che Gino Ugo Tarchetti in realtà non si chiamava Ugo fu un nome che gli fu un soprannome che gli fu attribuito proprio in onore in omaggio a Fosco con cui aveva alcune caratteristiche in comune come ad essere un militare tormentato ma che anche ammirava tantissimo e in effetti qualcosa dell'Ortis risuona in queste pagine come l'attrazione per la morte fatale il costante l'incombre della morte ecco l'amore come elemento che può salvare l'uomo non c'è tutta la complessità dell'Ortis non c'è tutto il discorso politico ecco qui ho proposto un estratto che in realtà in cui in realtà leggo solo l'incipit che bosta proprio il tormento interiore qui siamo verso la fine sta dicendo Giorgio vorrebbe allontanarsi e dice quella notte non dormì passai circa sei ore assopito sopra una seggiola bacciola vicino al focolare con i piedi incrociati sul posacenere pensando e fastanticando alla luce della fiamma del caminetto le idee più dolci le più tristi succedevano senza pose nel mio cervello contrasti i contrasti messi in maniera evidente si urtavano si mescevano senza lasciarmi un istante di pace agiva io umanamente nell'abbandonare fosca in quel modo era leale era onesto quel fuggire così da lei quell'ingannare l'alta inquisa era soprattutto prudente ecco l'animo di Giorgio è sconvolto e lo è praticamente costantemente la prosa che non è particolarmente complessa dal punto di vista sintattico ma è spezzata invece fortemente caratterizzata appunto da questi contrasti da queste esagerazioni che vogliono rendere un animo fortemente tormentato e arriviamo finalmente alla trama due parole sulla trama che dicevamo è semplice Giorgio ricevamo un militare di un sotto ufficiale ecco che viene trasferito a Milano e qui incontra Clara Clara vive nello stesso stabile in cui vive lui e la intravede subito se ne invaghisce riesce a comunicare con lei e i due cominciano a diventare amanti momenti meravigliosi se non che molto presto il nostro protagonista Giorgio viene trasferito in una località non precisata non viene citato il nome di questa località ma sicuramente triste secondaria non troppo lontano da Milano perché vi può tornare senza troppe difficoltà e più volte vi torna al corso del romanzo viene trasferito in questa località triste priva di particolari attrattive sociali e qui il colonnello lo invita a mangiare con lui alla sua tavola e gli dice subito che gli ufficiali insomma un suo gruppo di amici si condividono le spesi trovo costantemente a questa tavola e Giorgio accetta un posto a questa tavola è apparecchiato ma non vi si presenta mai nessuno è appunto occupato da una convitata misteriosa che è Fosca appunto la cugina del colonnello che vive con lo scoproniamo molto dopo in realtà vive col colonnello perché è diventata orfana è stata proprio per la sua bruttezza vittima di un avventuriero che è riuscito a appropriarsi tutti i suoi beni i beni suoi propri e soprattutto quelli della famiglia i suoi genitori sono morti di isperazione e lei ormai vive col fratello questo lo racconterà in seguito a a seguito a Giorgio fatto sta che un giorno si presenta questa è scopriamo che era stata male ma in realtà lei è perennemente stato in malattia una malattia nervosa lo dice il dice il medico e e Giorgio inizialmente inorridito alla sua bruttezza però è anche in qualche modo interessato da alcuni suoi tratti spirituali incuriosito ecco potremmo dire se non che a un certo punto il il medico stesso si presenta da Giorgio e gli dice ormai nelle volte precedenti si erano già visti qualche volta lui è Fosca e era emerso in qualche modo anzi in maniera inequivocabile l'interesse di Fosca per Giorgio non ricambiato in questo in questa fase anche se Fosca entra nella testa di Giorgio in maniera piuttosto evidente fatto sta che un giorno il medico si presenta a lui una sera anzi dice Fosca sta malissimo in effetti era un po' che non si vedeva e l'unica possibilità di salvarla e che tu vada da lei e ti presenti finga di essere innamorato di lei e Giorgio per pietà dice ma bisogna vedere se è veramente solo per quello accetta si presenta con la complicità del medico che vive in una stanza attigua quella di di Fosca si presenta finge di essere invaguito di lei Fosca tra l'altro dice sono consapevole del fatto che stai fingendo ma comunque mi piace bearmi in questa finzione fatto sta che da quel momento in avanti continua comincia una sorta di relazione una relazione strampalata perché Giorgio sogna costantemente Clara e appena può fugge a Milano Fosca Fosca lo adora ma al contempo assolutamente possessiva e lui non riesce più a staccarsi da lei c'è anche una sorta di ricatto morale perché appena Fosca viene contrariata da nescandecenza e sembra svenire venire meno forse morire e quindi Giorgio è spaventato dall'idea di farle male e d'altronde è una donna di singolare profondità e questo anche un po' lo attrae fatto sta che dopo qualche tempo il medico si presenta nuovamente da Giorgio e dice tu devi assolutamente andartene la malattia di Fosca questo male oscuro ti sta prendendo vattene prima che sia troppo tardi altrimenti anche tu farai la sua stessa fine lei ormai è condannata a morire non c'è più nessuna speranza di salvarla è stato solo di capire quando tu vai e tra l'altro Giorgio sa anche che una notte di amore vero insomma di un amore passionale ecco non semplicemente non semplicemente di dolci parolette potrebbe uccidere Fosca in quanto il suo corpo è minato dalla lunga malattia Giorgio fa un tentativo di fuga abbiamo letto l'estratto in realtà quando sta per andarsene Fosca sale in treno senza dire niente a Fosca ma Fosca si presenta sul treno stesso quindi con il solito ricatto morale lo porta lo riporta al paesino lui ottiene di andare a Milano promettendo di tornare qualcuno tipo il medico pensa che sia un escamotage in realtà lui veramente dopo aver rivisto Clara per quella che non sa essere l'ultima volta decide di di tornare da Fosca quindi evidentemente anche se non lo ammette c'è una sorta di attrazione inevitabile verso questa donna fatto sta che a un certo punto durante una cena egli riceve due lettere la prima è una lettera di trasferimento perché il medico per salvarlo ha fatto in modo di ottenere per lui un trasferimento la seconda è una lettera di Clara che gli annuncia di voler troncare la relazione perché non perché non lo ami ma perché vuole stare vicino al marito che è stato vittimo di disgrazie al figlio Fosca la notizia del travestimento dà in escandescenze il legame diventa palese Giorgio a questo punto è in disgrazie è stato abbandonato da Clara come scopre poco dopo nella lettera poco dopo questa rivelazione il colonnello offeso dalla relazione che gli aveva avuto con Fosca con sua cugina questa relazione illecita di cui tra l'altro fino a quel momento tutti sapevano tranne il colonnello stesso decide di sfidarlo a duello cosa peraltro inammissibile perché erano di gradi diversi ma Giorgio accetta di dare le dimissioni i due si sfidano a duello ma prima della notte duello potenzialmente mortale prima della mattina in cui si devono sfidare Giorgio decide o comprende di amare Fosca è l'unica che mi abbia veramente amato e quindi decide di passare la notte con lei una notte d'amore in cui lui si sente trasportato alla passione per lei dal punto di vista spirituale eppure non riesce a vincere talmente almeno per un certo tempo la repulsione fisica questo tra l'altro il capitolo che fu fortemente rimaneggiato anzi praticamente scritto da Farina e resta fino a mattina con lei poi lei poco dopo morirà ma prima che lui lo sappia va a duello c'è questo duello con il col colonnello che viene ferito ma in realtà nessuno muore fatto sta che lui ambe due sono radiati all'esercito ecco lo sfacero totale e Giorgio è costretto a iniziare una vita priva di significato e in cui diciamo non riuscirà mai a liberarsi almeno fino al momento del memoriale dell'influenza e della malattia di Fosca grazie